Ciao a tutti, io sono Alessia, io sono Kiki e benvenuti su Dreaming of Korea! Oggi outfit più o meno casalingo perché finalmente dopo un anno torniamo in The Soup. Infatti oggi reazioneremo alla prima puntata della seconda stagione di BTS in The Soup. Detto ciò, I'm ready, let's go! Bene, adesso sinceramente non vediamo l'ora di vedere BTS in The Soup, soprattutto che io lo aspettavo da tempo. Non sono pronta, però ci proviamo. No, oh, 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 baby! BTS in The Soup. Imagine! Con il quad, col casco da bici. Esatto, che poi tra l'altro dalla sua espressione sembra che sta cavalcando un cavallo. Sta cavalcando un cavallo. Sta cavalcando un cavallo. Ok, il cavallo sta cavalcando un cavallo. No, 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 no. Beh, speriamo che non abbiano messo nuovamente il box server di JK perché è stata la morte un po' di tutte le armi. Quindi speriamo che quest'anno non lo mettono. J-Hope, copriti, copriti! Copriti! Eccolo! Il nostro magnetico JK! Comunque, mi spezza un botto, Jin, col cuscino, tipo, mio. Cuscino mio! È uno scherzo. Non è fuori. Ma cos'è? Sembra un film horror. Ma se non è vento. Cos'è il vento? Sì, è il vento. Non so se si sente in camera, ma, tipo, fuori c'è il diluvio universale. E ci sono le tapparelle che sono tipo... Scusa. Ma, tra l'altro, mi ha pure fatto spaventare. Ma che cosa... No, ma la cosa bella è che si prende le cose... Cioè, non è che cerca di... Uccidere l'insetto, no. Prende le sue cose direttamente e va via. Mi ha appena ricordato te stamattina. È entrato qualcosa in casa! È entrato qualcosa in casa! È, era una cimice, è tipo... Io, con molta noncialanza, sono andata nella fissata. Mi serve una scopa, però fuori stava piovendo e quindi non potevo uscire perché ero in ciabatte. J-Hope che cerca di scopare l'insetto e di ucciderlo. No, secondo me sta cercando se ci sono altri parenti, altri figli dell'insetto. Tipo, di trovare qualcun altro perché il modo in cui sta guardando la stanza è tipo... Ci sarò molto convinto. Comunque, non per qualcosa, ma l'outfit di J-Hope è tanta roba. Lo vedo parecchio sconvolto. Il modo in cui lo guardo è tipo... Beh, vivo, si muove. Poi tipo si gira e ci sono altri insetti. È che non sono riuscita a farti il video stamattina, se no avremmo comparato le due scene. Tipo, J-Hope e Kiki. Same energy. Ma poi, secondo me è un treppiede, perché è abbastanza lungo. Un treppiede. Quello della macchina. Ho la situazione che troveremo lo stendino sotto il barco. No, no. Oddio. Ma è caduto lo stendino? Sì. Ma è caduto. Grazie a tutti Ah ma qua sto ancora registrando tra l'altro Bene Grazie a tutti A presto un po' di disagio abbiamo deciso di preparare Sì Alla fame Il love Appena detto mi sono innamorato di te Comunque JK sembra molto duro ma è così tenerissimo Allora è una cosa bella questa che si vede in In The Soup Del rapporto tra JK e il cane il fatto che lui comunque si prenda cura del suo cane Non riesco a parlare più L'ho conteggiata È un grande senso di responsabilità perché gli animali non sono dei giocattoli Esatto E quando decidete di prendervi cura di un animale Pensate sempre tenete sempre a mente che non è un giocattolo È comunque un essere vivente E ha bisogno di cure E di attenzioni No ma la canzoncina sottofondo Mentre lui che guarda Il cane che fa la pipì È un giotto al muro che lo guarda Orgoglioso del mio bambino Oh Dio che carino Il mio cuore Dopo JK adesso abbiamo Jim Che è in pigiama a bere una birra Ovviamente perché ragazzi C'è chi quando va a letto si porta l'acqua E c'è un libro L'acqua solamente per bere Oppure c'è Jim Che si porta la birra Beh perché non può bere il Jim Chiudete le palestre È inammissibile Farci vedere questo Ok Noi abbiamo un cuore Debole Fragile Che si rompe Che si rompe Il modo in cui J-Hope si sta gustando la cena Cioè il cibo È qualcosa di magico È spettacolare Esatto Ma l'espressione di Nam June Che me lo guarda schifiato Del tipo Che lo giudica Esatto È ancora più bello Ma povero Sono spaventata per una falena Vi che prima non ha avuto paura per il treppiede È il monopiede È dai questo monopiede Il treppiede Oddio Con l'insetto bagarozzo Che c'ha mille piedi Non ho avuto paura per quello Però ho avuto paura per una falena Perché la falena è più pericolosa Bene In effetti le falene sono brutte di faccia Il treppiede Sta lì attaccato al muro Come una ventosa Esatto E sta ferma Invece la falena è più Come prima la serra Andiamo avanti Ma la falena è che sta attaccata Alla maglietta di V Per poi attaccare Pesantemente J-Hope Ne vogliamo parlare Comunque riptelefono Ma J-Hope è te stamattina Quando hai visto la cirice Tipo Perché sta orlando Quanto è contento Ma J-Hope Ma J-Hope si sconvolge Per le telecamere No È la stessa scena di BTS In The Super Dell'anno scorso Che si mette a giocare Davanti alla telecamera Cioè ormai dovresti aspettartelo Che le camere ormai Sono così modelle Aspettartelo Che le camere metteremo sotto Ok abbiamo capito Che ci sono i stessi prodotti Che ha J-K Ma cosa sta facendo Cosa stai facendo J-K Molto fulbo ragazzo Praticamente Sta scambiando I suoi prodotti Già usati Con i prodotti nuovi Che gli hanno messo La Big Hit Sicuramente Nel suo bagno Quindi ha fatto uno scambio Abbastanza equo Prendendosi quelli nuovi E lasciando quelli vecchi Molto astuto Ci cerca di stile comune Basta Umore Ma No aspetta A me è caduto il telefono In faccia una volta Ora capisco Perché stavo addormentando Ora capisco Perché stai così Ma vogliamo parlare Delle facce da zombie Che c'hanno V e Jimin Donate al computer Tipo Sembrano un po' me Ogni notte Alle 4 e mezza Dal mattino Che mi guardo le serie Tipo così Un po' anche noi L'altra notte Quando stiamo In montare il video Sì esatto Eramo letteralmente così Che secondo me Stanno giocando O a Fortnite O a Call of Duty Se non erro Forse è Call of Duty Per le armi Mh Mi è minato Namjoon Jami and Napa Beh grazie Ci siete voi Il fatto che Namjoon Abbia mandato un messaggio A Jimin Per dire che non riesce a dormire Quindi che cambia stanza Certo Povero Namjoon Sì secondo me Gli ha scritto La dovete smettere Di fare il delirio Esatto Quando torniamo a casa Vi piglio De meno Esatto Così carino Ok J.K. Sta bene A posto No Voi immaginate Alle 6 del mattino Mentre tutti dormono E sentirvi J.K. cantare Oddio Finchè J.K. forse Quasi quasi Sinceramente Ma se ne fosse stata D'altra persona L'avrei picchiato L'avrei menato A morte Io l'avrei picchiato Malamente Avevo preso il microfono In testa Gliel'avrei fatta No Se le 6 del mattino La devi smettere Dopo aver sfogato La sua energia Andiamo a dormire Ma questo cambio di espressione Che è successo? Non lo so No 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 Ma il cane Ma il cane Che mi caga in cucina Ne vogliamo parlare Ok abbiamo visto J.K. Sveglio I prossimi a svegliarsi Saranno J.H.O.P 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 Ma guarda Sembra un pulcino No Un pulcino Eh 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 Parola è tua Il mio cellulare è andato in bug Tipo No Un pulcino Eh Un gallo Una gallina Un pollo Pappagallo Quando si sveglia Tipo Uguale Perché decide di farsi i selfie Non contento si fa le foto anche con la Polaroid S'è bella come il sole Oh Asciuga che si sveglia E inizia a studiare la macchinetta del caffè Che tra l'altro Da quando hanno fatto l'ultimo No l'ultimo Uno degli episodi di Disneyland e BTS Sì Dove avevano imparato a usare A fare il caffè con la macchina professionale Da lì mi hanno fatto mettere La macchetta del caffè Con la professional Convinti che Loro la sappiano usare Ma dai Secondo me sì La soppranno usare Siccome è J.H.O.P Tutto è possibile Quindi non lo so Vedremo Lo vedo già confuso Sì esatto Parecchio Tipo Cos'è questo? Da dove esce il caffè? Come funziona? Allora Allora io Big Hit vi voglio tanto bene Però Perché? Sembra un green screen Ma infatti Cioè È Lo stacco è troppo netto Cioè proprio sembra un green screen Fatto male Sì O Gli hanno messo delle luci Talmente Sparate su di lui E quindi lo sfondo Resta un po' più In ombra Oppure È un risparato molto male A me fa ridere la sua faccia La sua faccia è confusa La sua faccia è confusa Come si mette questo? No Lo devi spegnere J.H.O.P È bello che ride da solo Perché se Sbaglia ride solo Ok Io lo adoro Rettifico quello che ho detto Cinque minuti prima È un disastro questo caffè Lo adoro Dopo aver preparato il caffè Andiamo Andiamo a svegliare gli altri Spero che non li sveglia Come fece Jean Nella Nella prima stagione Con i I fuchi d'artificio È bello così I fuchi d'artificio Lo sveglio umano Hello V V Hello V Ragazzi Parliamo Oh cute Anche io voglio essere svegliata Da J.H.O.P Così Io non sono J.H.O.P Però ti posso svegliare così Domani mattino Voglio essere picchiata? No Vabbè Ci tengo la mia vita Rettifico Non voglio essere svegliata In questo modo Come sta facendo J.H.O.P Con V Cioè Non voglio essere sbattuta Come un tappeto No Allora parliamo un po' Big E Proprio detto così Stanno proteggendo la privacy dell'artista Anche tu Dico io Perché Anche qui Big E Allora Parliamo anche di un altro argomento I cappelli Sono illegali Allora Facciamo una petizione Scrivete nei commenti sotto Quanti di voi Anzi Quante O quanti di voi Sono morti Dopo aver visto I ragazzi Con il cappello Cioè Ditemi Non sono Jimin Che ovviamente Anche lui si è appena svegliato E non ce lo fanno vedere Basta No dove vai Vado da Jimin Torna qua Aspetta Alzato in quel modo Tipo perso nel Non so dove Perso nel vuoto Che fissa JK Come un palo La mettere come sfondo Non lo so Cioè E fare un botto di meme In questo momento Per tutti quelli Che hanno visto Stanno vedendo Lascio a voi anche La libera fantasia Di usare Questo frame Per fare I meme Vi lasciamo proprio Il frame Mandateci nei DM Esatto I vostri meme Esatto Namjoon tipo Seduto nella poltrona Così Con gli occhiali Tipo Che li giudica Li giudica Au Au Ed ecco a voi Signore e signori Il grandissimo Rappista Kim Namjoon Che sa cantare Come uno signolo Rappista Rapper Ma rappa D'addio Jin che arriva Ma il mood È ancora più bello Che A parte che Luluchetti Il punto di vista Di Jin Mi fa morire Troppo da ridere Il fatto che Il mood Guarda Il mood Che è cambiato Da musica Pam 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 Ha fuori Il silenzio E tipo Jin che cammina Che sta succedendo E si guarda Si vede Namjoon Che rappa Come un pazzo E Kim Taehyung Che salta Come un canguro Però è il fatto Che Sugar ha cucinato Per tutti Un po' Come la mamma Come si prende cura Di loro Però manca qualcuno Mi so E infatti Jimin Eh non penso Che mangia La salsa di vaso Come la va a chiamare Infatti È stato un piacere Buona serata Da Dream of Korea Allora Che mi mettono? La maglietta dice Allora No Allora Due cose Stanno protezzendo 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 Non so più parlare Allora Bisogna La tua maglietta La prossima volta Il principino Comunque si lo ripeto Mi era mancato Vederli tutti insieme Felicio Un bambino felicio E niente Questa è stata La prima puntata Sono abbastanza sconvolta E niente Per chi di voi L'ha visto Fateci sapere Nei commenti Quali sono stati I vostri momenti preferiti Io quasi Questo me lo rivedo Questa sera Così Perché non ha apprezzato Abbastanza No Il CGI Di Jimin No no Devo ancora E niente Quindi Questo comunque Come sempre In the soup È sempre bellissimo Vedere i ragazzi Assieme Così All natural È ancora più bello E mi fanno Di più Apprezzare Loro E sono molto stanca Io sono quella Che non sa parlare Quindi Tra stanchezza Tra fame Sono le nove e mezza Tra il diluvio universale Che c'è stato Sto meriggio Diciamo che sono un po' sconvolta Però comunque Bello Molto bello Quindi Bene Con questo Ci vediamo bene La prossima volta Con la prossima puntata Della seconda stagione In the soup In the soup Due Due Ciao Cut Io ho mal di schiena E ho fame Io ho letteralmente Le chiappa Ho mal di Quadrata C'ho fame Mi prepara di un buon accento Ordiniamo